Quando passo dalle parti della litoranea ionica e vedo le bellezze del nostro territorio, vedo la bellezza, la forza, lo splendore del nostro mare baciato dal sole, mi domando come ci si possa ancora ostinare a volere a tutti i costi l'Ilva a Taranto. Ormai è chiaro e evidente che l'Ilva è incompatibile con il territorio ionico, lo dicono le sentenze, lo dicono i dati scientifici che purtroppo contano e registrano morti su morti, ammalati su ammalati. L'Ilva non è compatibile con il nostro territorio. L'Ilva a mio avviso è a giudizio di tantissimi tarantini, va chiusa, va estirpata, senza se e senza ma. Vedete, è una situazione incredibile quella di Taranto. Taranto, dicevo, ha uno splendore unico e la nostra realtà viene invidiata da varie parti d'Italia, da varie realtà italiane. Pensate alla Romagna, penso a Rimini, a Riccione, zone per carità belle, però lì c'è la mucillagine e noi invece abbiamo un mare cristallino. Il territorio ionico vanta numerose bandiere blu. Noi potremmo e dovremmo vivere di turismo, di mare, di agricoltura. Con questo splendore, noi pensate, per tutto l'anno, perché abbiamo un clima, come dire, ospitale, per tutto l'anno, noi potremmo vivere di turismo, potremmo procedere anche con la destagionalizzazione, potremmo fare eventi e potremmo fregarcene ampiamente dell'Ilva. Ma qui ci si ostina a volere l'Ilva a tutti i costi. Per comprendere bisognerebbe mettersi nei panni degli ammalati di cancro, bisognerebbe pensare a chi non c'è più. E queste immagini che ora stanno scorrendo, questo contrasto tra mare, sole e Ilva, la dicono lunga su quello che dovrebbe essere il futuro di Taranto. Un futuro, purtroppo, che ci viene negato, perché continuare a difendere l'Ilva significa spezzare la vita dei nostri figli. Meditate cittadini, meditate. Grazie a tutti.